Un finanziamento di quasi 6 milioni di euro per il risanamento funzionale e ampliamento del sistema fognario di Sansa. Il Comune ha infatti firmato ieri a Napoli, in regione, la convenzione con l'ente idrico campano per il finanziamento del progetto presentato dall'ente. Un grande giorno per la nostra comunità, il commento del sindaco di Sansa Vittorio Esposito. Ora, dopo la firma della convenzione, si potrà procedere con il bando per l'affidamento dei lavori. Un risultato importante raggiunto dall'amministrazione comunale che aveva nel suo programma la realizzazione del sistema fognario in aree del Comune ancora non servite. Un grande lavoro, ha affermato il sindaco Esposito, svolto da una squadra di amministratori locali che dal primo giorno, in meno di tre anni, ha concretizzato gli impegni assunti per dare una svolta al nostro comune. Un lavoro sinergico con la regione Campania, che ci ha consentito di cogliere tutte le opportunità finanziarie disponibili. Ha commentato ancora il sindaco, finalmente realizziamo una infrastruttura attesa da anni, che servirà alcune aree del paese che ancora non erano servite dal servizio fognario. Un lavoro di squadra che ha visto i consiglieri e la giunta lavorare gomito a gomito in armonia e condivisione giorno dopo giorno. Il sindaco ha poi ricordato che l'impegno dell'amministrazione è quello di continuare a realizzare condizioni di crescita e di sviluppo per la comunità. I circa 6 milioni di euro ottenuti per il nuovo sistema fognario si aggiungono ai 6 milioni previsti per la realizzazione della messa in sicurezza della strada del Monte Cervati.